Il giovedì sera parliamo di soldi e di patrimonio, del vostro patrimonio. Suggerimenti e indicazioni chiare e concrete per investire liquidità e per gestire quello che possedete. Per farlo rendere il vostro patrimonio, ma anche per proteggerlo, per conservarlo al sicuro e per destinarlo nel modo migliore ai vostri figli. Grazie per la visione!